Sono una compositrice di canzoni, cioè cantante e compositrice. Vengo dall'Australia. Volevo da sempre diventare una cantante. Già da bambina volevo sempre cantare e mi piace molto cantare. Sì, io ho inciso un cd che verrà distribuito al pubblico. Mi piace salire sul palcoscenico in modo che tutti mi vedano. Questo è il mio futuro. Io sono sempre del parere che se vuoi qualcosa nella tua vita, lo devi fare qualunque cosa essa sia. Sono venuta in Svizzera sette anni fa. Le mie sorelle erano già qui in Europa dove studiavano. Sono venuta a trovarle e all'improvviso mi è stato offerto del lavoro. E allora sono rimasta. In seguito ho conosciuto il mio manager che ha avuto fiducia in me. Ciò è estremamente importante per la mia professione. Avere alle spalle persone che credono in te, qualunque cosa succede. Questo è più importante che la musica stessa. Avere vicino qualcuno che crede in te.